La Polizia di Stato di Catania sta eseguendo 20 misure cautelari emesse dalla competente autorità giudiziaria nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di rapina, furto, sequestro di persona, ricettazione e simulazione di reato. Le indagini condotte dalla squadra mobile della Questura di Catania hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari a carico di un gruppo di soggetti che in concorso tra loro si sono resi responsabili di numerosi furti di semirimorchi contenenti generi alimentari del valore di svariate migliaia di euro in sosta all'interno dell'area portuale di Catania, che venivano collocati presso una serie di ricettatori nonché di una rapina di un'auto articolato con sequestro di persona del conducente. Grazie per la visione!